Giornata salernitana per il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti. Questa mattina Giffoni per partecipare al festival nel pomeriggio ha fatto tappa presso l'ex scuola elementare di Via Fresa a San Leonardo dove la cooperativa Labbraccio ha inaugurato il ristorante sociale prima realtà del genere del sud Italia. È un'idea, è un'iniziativa molto bella da applaudire, da sostenere perché abbiamo un grande bisogno di solidarietà, abbiamo bisogno di gesti concreti che aiutino chi ha più bisogno. Poi naturalmente dobbiamo fare in modo che le istituzioni, chi ha la responsabilità di governare, di amministrare faccia la propria parte. Io sono qui anche proprio per testimoniare della vicinanza a queste organizzazioni di volontariato, di associazionismo alle organizzazioni sociali che danno questo meraviglioso esempio. Allora abbiamo scelto di fare il ristorante sociale, non una mensa dei poveri, dove le persone vengono accolti in un ambiente elegante, vengono servite a tavola e vengono servite da voi i volontari dell'associazione che poi pranzano. Le cucine ci sono state donate con un finanziamento 8 per 1000 dalla chiesa valdese e tutto il resto dai imprenditori locali che hanno messo a disposizione dell'associazione materiali e personale qualificato. La tappa salernitana di Poletti è stata anche l'occasione per fare il punto sulla delicata situazione relativa alle fonderie Pisano. Il capo del di Castero ha paragonato la vertenza salernitana all'Ilva assicurando l'impegno del governo a trovare una soluzione che tuteli tutte le parti in causa. Quando si scontrano due principi essenziali che sono la salute da un lato e il lavoro dall'altro bisogna cercare delle vie che aiutino da una parte a tutelare la salute e dall'altra parte a tutelare il lavoro. Bisogna evitare che siano i lavoratori a subire il danno maggiore da situazioni di questo tipo. Quindi noi lavoriamo sistematicamente con i tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico per far sì che si cerchino queste soluzioni e si cerchi di limitare al minimo la sofferenza dei lavoratori.